Sticky, bada, che la sveglia là o mi manca? Così tanto per frustare. Dagli americani l'acqua che è definito, questo lo dicono le cronache, il più bel musico, l'italiano di sempre. Mi era stato chiesto da una produzione di fare una regia, un protagonista in un'operetta, io storso un po' il naso perché non era un territorio in cui mi ero mai avventurato. Poi mi venne in mente, cavolo ma ce l'ho in casa, l'operetta dalle mie radici e ho ritenuto che fosse naturale l'evoluzione da prosa a operetta a film a musical. Le ispirazioni sono state varie, soprattutto mi sono attenuto a quello che è la coreografia italiana, a quello che succede nell'arte italiana, nel teatro italiano perché abbiamo dei grandissimi coreografi. A differenza dell'operetta dove c'è il cantante lirico che canta solamente, qui cantiamo, balliamo e recitiamo. La tipica, il tipico spettacolo toscano con le intonazioni, gli accenti e modi di dire toscani. E' una donna che cerca di tenere testa anche al marito, cerca sicuramente di gestire queste due figlie. La mia sorella preferisce il cinematografico. Sono appunto la più limpida, più pura delle tra le due, comunque sono la classica ragazza toscana, forte, un po' frizzantina, che però in realtà fa le cose platealmente. Appare in un modo quando in realtà poi, insomma, all'epilo dello spettacolo si vedrà che fa più guai di tutti. Anche se vissute in un'epoca molto lontana da questa, danno le stesse preoccupazioni e soprattutto le stesse gioie che danno le figlie di adesso. Quindi la storia si ripete negli anni ugualmente, insomma. Sono napoletano, napoletano come me, che parto dalla mia città per venire a tentare di coronare il mio sogno d'amore con Ida, che è l'acqua che era. Prendiamo, organizziamo e durante la festa della Rificolona, dove ci sarà un casino pazzesco, scappiamo e ce ne andiamo. È una storia di una ragazza che fa la famosa fuitina, quella che si chiama fuitina. È una storia quindi molto semplice che viene raccontata però in una maniera molto poetica. È una cosa molto raffinata sotto tanti punti di vista, soprattutto nella parte che riguarda tutta la parte della recitazione. Quindi la prosa è stata messa molto in risalto. È il miglior cast che potessi avere per un musical, non per questo musical, proprio per un musical in assoluto. C'è un miglior cast che potessi avere per un musical, non per questo musical. Grazie a tutti.